Vincenzo De Luca torna ad alzare il tiro contro il Premier Draghi. Nel consueto punto settimanale sull'emergenza Covid, il Presidente della Giunta regionale è tornato a criticare il Governo nazionale sulla sperequazione nella distribuzione dei vaccini. Con quale coscienza si può togliere ai cittadini campani una quantità di 210.000 dosi di vaccino? Con quale coscienza mi auguro che questo mio grido di dolore sia accolto? L'inquilino di Palazzo Santa Lucia ha anche manifestato in sofferenza per la proroga della zona rossa parlando di criteri demenziali per la definizione del rischio sanitario e ricordando che sui numeri di decessi e di terapie intensive occupate la Campania ha dati migliori di tante altre regioni. I due elementi che misurano la gravità del contagio sono l'occupazione delle terapie intensive e il numero di persone decedute per Covid. Rispetto a questi due parametri la regione Campania è all'avanguardia in Italia. Il Governatore ha poi tracciato la linea d'azione sui vaccini. L'obiettivo è arrivare a 60.000 fiale al giorno per rendere la città di Napoli Covid free entro l'estate. Abbiamo un altro obiettivo che ho dato alle strutture sanitarie. Completare l'immunizzazione della città di Napoli entro giugno-luglio.